Ora, prendiamo un argomento, la crisi della Fiat. Perché c'è la crisi della Fiat? Perché mancano i soldi. Perché la rarità monetaria è programmata dalle banche centrali e non è tollerabile oggi che non c'è più la riserva e non c'è quindi un limite sul quale basare gli incrementi di liquidità. L'incremento primo di liquidità va commisurato al numero dei cittadini. Noi dobbiamo garantire ai cittadini la continuità vitale. Giustamente le manifestazioni che si stanno manifestando in tutte le piazze d'Italia a sostegno degli operai che sono licenziati della Fiat sono manifestazioni che devono concludersi a parte le vicende della Fiat. Ma in aggiunta a quelle va rivendicato il reddito di cittadinanza. La differenza che c'è tra reddito di cittadinanza e salario è che il salario ce l'ho se c'è il lavoro. Ma se il lavoro non c'è che fa? Devo morire di fame? Oppure devo rubare per sopravvivere? Ecco la necessità di fare il reddito di cittadinanza. In attuazione del secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione italiana. Come abbiamo scritto sul CIMEC. Il simbolo del CIMEC porta chiaramente detto che l'iniziativa è fatta con lo scopo di dare attuazione a una norma costituzionale. Ora quando la procura della Repubblica di Chiedi mi ha messo sotto processo penale, quando io miro ad attuare una norma costituzionale e non mette sotto processo penale il governatore della Banca Centrale Europea da me denunciato presso la caserma dei Carabinieri di Guardiagrelle. Io mi auguro che sia fatto questo gesto di coraggio da parte della magistratura perché quando noi ci troviamo di fronte al notorio, il notorio non ha bisogno di prove, grazie a Dio, questo delibera del Consiglio Comunale di Guardiagrelle all'unanimità. fa capire che il Consiglio Comunale è diventata la punta di diamante per aprire una strada nuova, una speranza nuova. Noi dobbiamo dare ad ogni famiglia un minimo di reddito che gli garantisca la libertà dalla miseria, soddisfare i bisogni fondamentali. E' inutile che noi parliamo di norme costituzionali. Io ho detto che è inutile che noi recidiamo il paternostro e dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa è la dottrina sociale della Chiesa. Noi dobbiamo dare non solo il pane, ma anche il diritto di pretenderlo. Lo si fa solo dando la proprietà della moneta. Perché quando io do non il pane, ma il denaro per comprare il pane, ecco che allora attuo veramente la dottrina sociale della Chiesa. Perché l'espressione distribuire il pane non è come si fa la distribuzione di mancime per i polli. L'allevatore di polli distribuisce il chilo di mancime a testa. E' l'allevamento di polli che dovrebbe essere analogo a quello del bestiame umano allora. Ecco allora che noi invece vogliamo salvare nella persona la dignità giuridica insieme al contenuto economico del diritto sociale universale contemplato nel secondo coma dell'articolo 42 della Costituzione italiana. Quindi non è che noi andiamo a chiedere la luna dentro al pozzo. Dicono che c'è uno Stato di diritto. Dicono che la Costituzione va rispettata. E allora perché non diamo atto a questa iniziativa? Allora quando noi vediamo che i magistrati se la pigliano con noi del sindacato antiusura perché noi abbiamo lanciato il Sime. Il Sime è un messaggio, è un esperimento scientifico e voglio segnalare su questo aspetto le parole pronunciate da Bruno Tarquini, procuratore generale onorario di Cassazione, il quale nel suo magnifico libro La banca, la moneta e l'usura esplicitamente dedica diverse pagine all'esperimento di Guardia Grele. Ed è riportato l'immagine del Sime. Dico, quando in tempi non sospetti c'è stato un procuratore generale di Cassazione il quale ha dato atto che il Sime è un esperimento rispettabile e conforme alle linee del diritto costituzionale italiano, dico, e come si fa a mettere in dubbio la legittimità di questa nostra iniziativa? E noi l'abbiamo fatto anche perché la malattia che oggi dilaga è il suicidio da insolvenza. Il suicidio da insolvenza è causato dal costo del denaro programmato dalle banche centrali che all'atto dell'emissione caricano il costo del denaro del 200%, ci espropriano e ci indebitano dei soldi nostri perché all'atto dell'emissione attuano l'emissione col signoraggio della grande usura, perché addebitano quello che devono accreditare. Ora, questa truffa è di tali dimensioni che grida vendetta a Dio. Ecco perché il problema di fondo, prima di tutto, è quello di garantire qualunque sia la vicenda della Fiat o del lavoro o della disoccupazione. Io voglio avere la sicurezza, il reddito di cittadinanza spetta al cittadino, non a titolo di elemosina, ma a titolo di legittima pretesa giuridica, perché chi crea il valore della moneta è la collettività nazionale. Questo valore è creato per convenzione sul presupposto delle spese di carta e inchiostro per creare il simbolo, che abbiamo dimostrato che il valore non è una proprietà della materia, ma è una dimensione del tempo perché è una previsione. È tempo oggettivato il potere d'acquisto, è incorporato nel simbolo. Quindi quando noi abbiamo fatto questa ricerca all'università, che oggi, grazie a Dio, questa nostra linea culturale sta entrando in tutte le commissioni di laurea, ci sono numerosi studenti che stanno facendo tesi di laurea sull'esperimento di guardiere, sul simec e sul valore indotto, dicono che non possiamo più tollerare che la magistratura ignori questo argomento di vitale importanza per la continuità vitale dei nostri figli. Questi qua si fanno le sentenze non in base al principio di giustizia, ma in base al principio della velocità di farle, come se fossero chili di patate si fanno chili di sentenze. La velocità per fare il ragionamento va commisurato alle due parole che stanno nel Vangelo. Sete di giustizia. Se la magistratura non è capace di soddisfare, di estinguere la sete di giustizia, i magistrati è meglio che cambiano mestiere. Noi abbiamo bisogno di un grande gesto ormai, perché non possiamo più tollerare di andare avanti con l'angoscia del debito. Io nella mia qualità di sindacato anti-usura ritengo di aver salvato dal suicidio diverse persone che stavano sull'orlo della disperazione sull'abisso. E noi l'abbiamo fatto come? Coi Simec. Coi Simec noi abbiamo tamponato, abbiamo fatto i pagamenti, abbiamo creato liquidità. Questi ragionamenti fanno capire che il mondo dell'usura, il mondo drammatico in cui è precipitata la nostra collettività nazionale, oggi il vero problema è quello delle debiti da pagare che sono debiti non dovuti. Quindi l'esproprio che si fa per le case, per i beni, per tutta la tranquillità è un atto di ingiustizia grande. Noi abbiamo bisogno di un grande gesto di coraggio da parte dei magistrati, i quali devono dire che se non si dichiara di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione, non si può dire chi è creditore e chi è debitore. Quindi va concessa la moratoria dei debiti, quantomeno la moratoria dei debiti, in attesa che si prendano delle decisioni, secondo saggezza, secondo verità, secondo giustizia. È per noi di Guardiagrele un onore che nel congresso di Guardiagrele del 13 settembre ultimo scorso si siano pronunciate tre parole che non hanno precedenti nella storia. Due parole, giustizia monetaria. Sono due parole che non trovano riscontro nella storia della cultura monetaria. Quando si parla di moneta, si parla di moneta, moneta debito, moneta come espressione finanziaria, moneta è lo sterco del demonio, la moneta è il nulla, la moneta è la misura del valore, la moneta è quello che volete, però giustizia monetaria non ne ha mai parlato nessuno. E allora noi abbiamo posto il problema. E per porre così il problema, la prima domanda che noi dobbiamo chiedere è di chi è la moneta? Perché quando la moneta è creata per convenzione con simboli di costo nullo, il Patterson dice che la banca d'Inghilterra si arricchisce sugli interessi, sulla moneta che è creata al nulla. Non è che ho solo degli interessi, ma della stessa moneta si appropria, perché per avere gli interessi vuol dire che la presta, ma per prestare vuol dire che se ne è presa la proprietà, perché è il proprietario che può prestare. Noi dobbiamo uscire da questa malattia culturale che dura da 308 anni.